la verità è una che togliendo i diritti ai lavoratori abbiamo restituito loro con il reddito di cittadinanza la possibilità di dire no a quei lavori che sfruttano la mano d'opera nessuno è nato per essere sfruttato tutti quanti dobbiamo lavorare per concorrere al benessere dello stato ma lavorare non significa sfruttamento lavorare significa dignità crescita personale e tutto questo la meloni non l'ha capito tutto questo mattio salmini non l'ha capito tutto questo berlusconi non l'ha capito prima mettiamo le tutele ai lavoratori prima offriamo una paga che li consente loro di poter fare una vita dignitosa e no una vita da pezzenti una vita di schiavi io voglio vedere loro riuscire a sbarcare il lunario pagare un affitto una bolletta enel una bolletta di gas limondizia e poi mangiare con 900 euro al mese di stipendio qualcosa è marcio e marcio sì le politiche scellerate di questo governo che non hanno fatto nient'altro che favorire le importazioni di prodotti che arrivano dall'estero senza mettere dazzi doganali consentire nei paesi dove sfruttano la mano d'opera dove hanno un tenore di vita differente dove l'uelfare completamente diverso dai paesi occidentali di poter venire a vendere i loro prodotti a basso costo in italia quindi prima di parlare è di dire andate a lavorare dite rispettate l'essere umano no allo sfruttamento questo è il mio pensiero il pensiero di un uomo che ha sempre lottato a favore degli ultimi fosso ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno